Amici di Mirado di Rado, bentornati in questo video in cui usiamo, uso che usiamo, quanti siamo qui dentro? Io. Però vediamo insieme l'utilizzo della Morris in seconda, rasatura nel pagliaccetto con testa che potete trovare, mi sono documentato, mi avete anche scritto sotto nei commenti, testa che troviamo nel Rasorock Mentor, eccola qua, la testa piatta del Mentor. Vi faccio vedere la Morris, perché, beh ma tu cambi la metta, no, non cambio niente, eccola qua, la Morris Styless, che la scorsa volta ho scoramellato sulla mano, quindi ho dato anche una pulita, richiudo il rasoio e niente, pagliaccetto, pagliaccetto con testa Mentor che si separerà per oggi dal suo fido pennello in favore del nostro. Un po' una luce di lumino sembra, perché è stato a bagno nel bicchiere, nel bicchiere prende una forma strana, adesso lo ripristino un pochino. Ecco qua, ora è un pennello da barba. Il nostro tricolore Omega Mirado di Rado, che andrà a gestire un sapone di Goodfellas, cioè re nero, eccolo qua, con latte di giumenta, ho buttato il tappino salva freschezza come un asino, però la profumazione, nonostante tutto, rimane. Quindi, evidentemente, la fragranza utilizzata è qualcosa di maggior livello. La consistenza del sapone inizialmente era un po' tra il ceroso e il cremoso, tra una cera e una crema. A me usare le parole con oso alla fine rompe le palle, per cui vi dirò, torniamo indietro. La consistenza del sapone era tra una cera e una crema. Adesso si è impastato, praticamente. E vabbè, insomma, ci sta. Ci sta. Il mio amico Riccardo sostiene che con le Morris io ci possa fare un mese di barba. Un mese scherzando, eh? Però, vediamo quanta barba ci farò. Intanto faccio un prelievo molto generoso e molto idratato, soprattutto, sperando di riuscire a prendere i componenti necessari e non soltanto la schiometta. Io andrei... Io andrei... Io andrei... Io andrei... Nu andrei... Mi ha un uomo... Io andrei... Io andrei... Grazie. Un po' vaporoso. Non sono più abituato a gestire saponi così. Non rimane. Però lo tiro, e chi se ne frega. Ecco qua. Ecco qua. Manni aggiusta tutto. Non per nulla mi chiamo Manuel. Allora, qui ho scoperto la barba, per l'administrazione. Facciandola così. Free. Faccio un buco se la maglia. Fico. Pagliaccetto con Morris in seconda rasatura. Vamos. Faccio un buco se la maglia. Faccio un buco. Grazie. 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 Primo giro annato, ne parlo tra poco, secondo giro. Grazie. 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 La sensazione della prima passata di questa Morris in seconda rasatura è come se fosse nuova. Praticamente, io non ho notato differenze tra la scorsa volta e questa. Quindi, come nuova, controvelo. Grazie. 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 Seconda rasatura, direi perfetta. Direi perfetta, qui in fase di pelo, mentre qui quando faccio il passaggio di pelo, qui è così e poi per me è così. Perché affronto un po' in diagonale, infatti qui non c'era già più nulla. Quando ho fatto il passaggio di contropelo qui non c'era quasi niente. Quindi questo tipo di movimento per me riesce ad affrontare il pelo nella maniera migliore. L'obiettivo sarebbe trovare una combinazione che mi permetta, con un passaggio solo o al limite uno più rifinitura, di avere un viso come piace a me. Ok. Quindi qui ho fatto la stessa cosa, ho fatto così, così, poi così, ma poi ho detto ma che cacchio stai facendo? Così è contropelo. E ho fatto un paio di puntini e non me li ha perdonati. Zona baffi, anche abbastanza inconome, tranne un puntino qui e un puntino qui. Ma perché sto contando i puntini? Che solitamente non ce ne frega nulla. Perché per me è un metro di confronto sull'efficacia della lametta, perché se mi strappa sui baffi io faccio un massacro. E visto che tutto sommato è andata molto bene, la sensazione è meravigliosa, la zona critica qui non l'ho neanche sentita. Cioè l'ha affrontata senza problemi e non ho niente qui, rispetto per esempio alla terza rasatura della trit, che qui era un massacro. Ma qui siamo in seconda rasatura. Vedremo poi come andrà la prossima volta. Il sapone. A questo punto faccio un po' una carrellata, tanto sennò poi la gente mi dice Non hai disposto niente del sapore, non hai detto del sapore, io li fai a fare i video. E me lo dicono in siciliano. Boh, perché? Non lo so perché. Questi commenti in siciliano però non potete più leggerli perché il tipo l'ho cacciato a calci in culo. Il sapone, c'è soltanto il barattolo qui sotto il coperchio, il re nero di Goodfellas, che prelevato come se fosse uno stirring, o come se fosse un tallovato qualsiasi, o come un vegetale. Di livello quale TLF o quelli che ho io, Phoenix Conforma CK6 ha prodotto schiuma vaporosa. Con il nostro maiale, con il nostro maialosso mirado di rado, alla fine è venuta bene come insaponata, nonostante la vaporosità, perché poi le mie passate sono per rascorrevolezza. Per cui io vado bene così, ho aggiunto ancora acqua e alla fine ce l'ho fatta. Però ho fatto montaggi migliori in passato con il re nero. Probabilmente tendo troppo a standardizzare il mio approccio, invece dovrei suddividerlo in base al prodotto. Setola sbiancata dell'omega tricolore, che io consiglio a chi vuole comunque un pennello in maiale, dalle buone prestazioni fin da subito. Questo fin da subito è un pennello piacevole, che poi chiaramente matura anche nel tempo, ma fin da subito non è così coriaceo come gli altri suoi colleghi, sempre di omega, parlo del 48 o del proraso. E' chiaro che poi in setola sbiancata ci sono altri brand che propongono i loro pennelli e so che sono altrettanto carezzevoli, se non anche di più. Quindi questa è una delle alternative, non ne posseggo altri, quindi non ne parlo, però guardatevi un po' intorno. La setola sbiancata di maiale è sicuramente un ciuffo dalle buone sensazioni. Concludo quindi la rasatura con l'after di re nero. Qui siamo a Terre d'Hermes, proprio ai livelli massimi. Io lo indosso Terre d'Hermes, quindi posso dirvi che è lui. Se io ora voglio dare continuità anche agli abiti, quando poi mi toglierò questa maglietta da casa e indosserò abiti civili, per dare continuità di fragranza sulla t-shirt o su quello che indosserò, tre spruzzate di tè d'Hermes e sono a posto. Così anche quando l'after, a metà giornata, avrà dato il suo, perché questo dura, è abbastanza durevole, avrà dato il suo, continueranno gli abiti con la fragranza dell'eau de toilette. Eseguirò anche questa volta l'operazione di scolamella dura sul palmo della mano, ma lo faccio in separata sede, non mi voglio tediare ulteriormente. Secondo utilizzo quindi, andato a buon fine, qui ho sempre il segno di quando mi tengo il collo, rimane il segno fisso. Oppure quando ci passa la lametta magari è una zona molto sensibile, si arrossano poi va via dopo un po'. Non ci sono particolari difficoltà sulla pelle, anche dopo il passaggio dell'after e questo tipo di after, proposto come aftershave parfum, vedete qui, ha una bella concentrazione alcolica, non elevatissima come alcuni altri prodotti che posseggo, ma si difende molto bene. Nonostante tutto la pelle ha reagito bene, quindi la rasatura non è stata molto stressante. Nonostante io in fase di risciacquo, di ultimo risciacquo, abbia sentito delle zone in cui un pochino la pelle bruciava, segno di una rasatura profonda però, a me capita quando la rasatura è molto profonda, allora magari si scopre un po' quella sensibilità, si espone quella sensibilità della pelle. Pelle nutrita, la sento un po' come se avessi messo una crema, quindi sono a posto così, non devo aggiungere altro al setup di oggi. Vi ringrazio ancora tanto, spero questa sera di essere presente in live, ultimamente nei sabato sera, se sono a casa, molto volentieri, se sono fuori io tento di andare comunque in live attraverso lo smartphone per stare un po' in compagnia, però magari poi la serata prende un'altra piega e quindi l'appuntamento di sabato sera è un po' particolare perché non dà sempre costanza. Cercherò di rimodulare un po' il tutto nel caso in cui io veda che, niente, sono più le assenze che le presenze, e vabbè, pazienza così, farò del mio meglio come sempre. Grazie ancora a tutti, l'appuntamento è alla prossima, buon weekend, buon sabato, buon tutto quello che vi va di fare. Ciao da Manuel e da Mirado di Rato.